Cento cavalli Ne l'ami ci sei? L'ami ci sei? L'ami ci sei? e lavi ti ha lavato la motonave, ti ho ripreso diretto al lavaggio non voleva mettere la giacca blu voleva mettere la giacca blu guarda, frescono i muschi e i licheni ora sei alta visibilità allora da qua si esce, questa è la zona del mote la zona del mote è questa, l'ha fatto nel barriere le barriere sono qui, vedi dove c'è quel casotto? si è passato lì sotto e da lì fuori si esce, questa è la bocca di Maradon si si, il mare hai capito l'ami? abbiamo un mare ma la ciambella, se ti metti la ciambella ti faccio il filmato con la ciambella questo si chiama, questo è il baccarlo, il famoso baccarlo vanno lì l'acqua è il baccarlo anche perchè l'acqua è abbastanza pulita? si si mi sembra anche voi certo hai capito? ho capito è il baccarlo baccarlo hai destrutto no ma stai stesso stai stesso dovete stare poggiando il vento dietro colonna vertebrale ormai si sta cercando anche di ammortizzare i colpi sta facendo tutto ammortizza sezione vai vado a piano è che siamo proprio quel vento buon ti mancava questa cosa poi lui guarda è dalla parte dove si becca l'acqua si la vado dietro ma anche tu cazzo ma anche tu cazzo è una asciutta di bagna anche questa cazzo 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 che coppia cazzo 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 cazzo